Perché frequentare il corso professionale di Twin Eye e Qigong? Attualmente ci sono diverse e molto interessanti possibilità professionali in questo campo. Tutti noi sappiamo che le discipline bionaturali stanno vivendo un momento di grande sviluppo e in particolare in regione Lombardia siamo una regione pilota per lo sviluppo di questo tipo di attività. I nostri allievi possono svolgere un'attività libero professionale e quindi molti di loro dopo aver terminato il corso hanno aperto uno studio dove esercitano l'attività di operatori Twin Eye e Qigong. Oppure un altro tipico sbocco professionale è lavorare all'interno di centri benessere, spa e anche RSA. In particolare abbiamo una iniziativa pilota con la RSA Cacciamatta di Iseo diretta dall'amico dottor Belotti che ha consentito l'inserimento di nostri allievi direttamente nell'organigramma dell'azienda. E quindi con la possibilità di sperimentare attività di massaggio tradizionale cinese a supporto delle tradizionali attività sanitarie. L'attività libero professionale resta comunque in un certo modo lo sbocco privilegiato per i nostri studenti e consente di organizzare al meglio la durata delle sedute e le modalità integrandole anche con la pratica e l'insegnamento del Qigong. Naturalmente tutto ciò si svolge all'interno di un ambito legislativo ben preciso. Parlando del caso Lombardia, della regione in cui noi ci troviamo, ricordiamo che a partire dal 2005, con la legge 2 del 2005, legge della regione Lombardia, abbiamo una sorta di inquadramento legislativo grazie al quale è stato istituito il settore delle discipline bionaturali che per definizione sono volte all'incremento e al mantenimento del benessere e della salute. Quindi esiste la possibilità di iscriversi all'interno di un albo degli operatori, o meglio di un registro regionale degli operatori Tuina, che è in un certo modo garanzia di serietà e di professionalità dei nostri operatori. A partire dal 2012 è inoltre possibile ottenere un attestato regionale di competenza, questo in ottemperanza alla normativa europea e quindi è possibile tramite la frequentazione di un corso breve di circa tre weekend ottenere un attestato di competenza in Tuina spendibile non solo in regione Lombardia ma in tutta Italia e in tutta Europa. Uno degli obiettivi fondamentali della nostra associazione è infatti quello di garantire la spendibilità del titolo rilasciato sul territorio nazionale e eventualmente anche europeo e nostra cura è seguire costantemente dall'interno l'andamento della legislazione. Vi ricordo infatti che VUVEI è parte del Comitato Tecnico Scientifico della Regione Lombardia fin dalla sua istituzione.